E' da diversi mesi che sto cercando di stare lontano il più possibile dalle polemiche sterili Perché non ne ho più voglia sinceramente Però si arriva a un certo punto dove non posso non entrare nel merito delle stronzate che si scrivono S Magazine è da più o meno un mese circa che sta continuando a scrivere articoli completamente insensati Infondati, pretestuosi sul mio conto e io sto zitto Quando arrivi a dire che io annullo un tour che non è mai esistito E lo sai che non è mai esistito perché non è mai stato in vendita nessun tour Lo stai facendo solo per buttare merda a caso Voi siete un magazine di settore la cui imparzialità dovrebbe essere il fulcro di tutto il vostro operato Voi siete nati di parte e morirete di parte Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!